Buonasera e bentrovati ad un nuovo appuntamento. Se la settimana borsistica si era aperta con un'ampia prevalenza di acquisti, altrettanto non si può dire per la seduta odierna. Un fattore in questo senso è rappresentato dal tonfo di BMW, causato a sua volta dal fatto che la società ha rivisto al ribasso le proprie stime per il 2024, oltre ad aver richiamato un milione e mezzo di veicoli. A ciò si aggiunge il dato sulla produzione industriale italiana che l'Istat ha ridotto del 3,3% su base annua. Si tratta del diciottesimo ribasso mensile consecutivo. Con queste premesse non stupisce la caduta del Fuzzimib, con un ribasso che a fine seduta supera il punto percentuale. Questa variazione dunque cancella completamente i progressi di ieri. Decisamente sotto tono anche Francoforte, anche se in questo caso il DAX si ferma ad un meno 0,79%. I minimi di giornata si sono registrati, come nel caso di poco fa, a pochi minuti dalla chiusura. Sulla stessa lunghezza d'onda troviamo anche il Dow Jones a Wall Street, ma non sempre a New York il Nasdaq. L'indice tecnologico infatti riesce ad essere addirittura positivo grazie anche al balzo di un colosso come Oracle. Oracle alla chiusura dei listini europei balza a più 12%, forte dei profitti netti nel primo trimestre dell'esercizio 2025 al 31 agosto. Il titolo tocca un nuovo record di massimo mai raggiunto nella sua storia sopra i 157 punti. Inoltre Oracle ha annunciato una partnership con Amazon Web Services. Tra tutti i titoli del Fuzzimib, Saipem è il peggiore di giornata, facendo registrare un calo superiore ai 4,5 punti. Il titolo del comparto petrolifero tocca un minimo sotto a 1,8 visto solo i primi di marzo. Pesante il bilancio di Unipol, anch'esso scivola sotto al meno 4%. Continuano le vendite sul comparto tecnologico e automotive, così STM finisce sotto i 3,5 punti di flessione e Stellantis cede un meno 2,73%. L'istituto della Banca Popolare di Sondrio azzera i guadagni delle ultime quattro sedute, abbandonando i 7 punti per azione e posizionandosi a 6,6. Il passivo segna un meno 3% circa. Spunti favorevoli su alcune utilities, le favorite Erg e Italgas, in vetta al Fuzzimib, dopo aver superato il punto di crescita. Più staccata Enel a più 0,40%. Seconda seduta con prevalenza di acquisti per Diasorin, più 0,73%, mentre Inuit mostra un trend più lento ma costantemente crescente dai primi di agosto. Oggi si aggiudica un più 0,36% circa. Per quanto riguarda la moneta unica, la nota più dolente è quella nei confronti dello Yen. In questo grafico, a un'ora, si nota come il cross sia arretrato sui livelli di inizio agosto. Poco mosso il cambio euro-dollaro, che rimane sempre poco distante dai valori di mezzanotte. Ora è stabile anche il cross euro-sterlina con il recupero pomeridiano. Ed ora, prima di concludere, il punto di vista tecnico sull'SP500 di Fabio Gaudioso. Ospite delle interviste di Traderlink di oggi, Fabio Gaudioso, trader indipendente e nonché gestore di fondi. Analizzeremo con lui oggi i mercati. A te la parola. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, parliamo di ESP500, il future guida mondiale. Andiamo a vedere un grafico giornaliero per vedere un po' cosa sta succedendo. L'ESP500 è uno strumento che in questi giorni sta un po' soffrendo. È sceso dopo una fase laterale e durata una decina di giorni. Si è appoggiato sul pavimento del super trend giornaliero che vedete in verde venerdì e anche ieri. Da qui ha trovato spunto di rimbalzo, ma è un rimbalzo, di questo si tratta. Perché il trend in questo momento è abbastanza definito, massimo storico, massimo più basso, quindi due massimi calanti, quindi decrescenti. Adesso andremo a vedere cosa succederà se faremo un minimo più basso di questo o se si fermano qui e provano a riattaccare i massimi. A livello di grafico settimanale, quindi saliamo di time frame, notiamo come la settimana scorsa è stata una cannella bruttissima, la peggiore di settembre della storia. Ricordiamo che settembre è un mese negativo per i mercati americani, forse il peggiore dell'anno. Vediamo se c'è la forza di rimbalzare qualcosina. Andiamo a vedere lato volatilità e soprattutto lato opzioni cosa stiamo assistendo. Allora, intanto oggi opzioni giornaliere, le 0DDE, che sono le opzioni più scambiate ormai da tempo, metà dei volumi li fanno qua, ci dicono che non c'è tantissima tensione. E ci danno dei previsioni di supporti e resistenze che vedete qua, 5,16 di resistenza e 4,43 di supporto. Volatilità a nove giorni, che è un VIX un po' più efficiente rispetto al VIX standard, perché sono le opzioni più scambiate, è sempre in R20, quindi massima tensione perché potrebbe dare noia. Questo invece è il vol index di una piattaforma esterna che utilizzo, che dà ancora un long di volatilità e conferma quello che il VIX a nove giorni ci mostra. Lato opzioni vediamo come sono posizionati gli investitori istituzionali. Questi sono i DPD, li ingrandiamo, i Defense Point Distribution, l'evoluzione dell'open interest, che ci dicono, attenzione, resistenza 5,583, supporto 3,70, che sono abbastanza distanti. Su oggi che cosa abbiamo lato movimenti? Allora abbiamo i movimenti degli istituzionali, questo è il sito del CMI, che ci consente tramite Quick Strike di vedere delle informazioni preziosissime sul mercato e che cosa andiamo a vedere? Intanto vediamo due cose. Primo, sarò brevissimo, questa settimana venerdì c'è il rollover dei mercati americani, attenzione che venerdì si rolla, quindi il pace of the roll che mappa il rollaggio dei futures da settembre a dicembre ci dice 5% di rolling, ma attenzione, 700.000 contratti in meno rispetto alla media. Il Nasdaq è qualcosina messo meglio. Ci dà delle informazioni preziosissime su stasera, che cosa? Ci dicono quali sono le trade che i market maker, i market mover hanno messo per oggi. Oggi è martedì, Empoli 2B è la scadenza di oggi, ieri hanno posizionato 13.000 contratti, 11, 12, 13.000 contratti, sullo strike 5.525. Segniamoci questo livello, perché a livello grafico oggi è la resistenza del mercato. Ve la faccio vedere graficamente dove si pone, eccola esattamente qua. Ha 5.525, quindi in quest'area qua hanno messo tanti soldi. Se il mercato va lì difficilmente passa. Supporto la chiusura di venerdì, 5.420. di quello sarà il supporto che il mercato andrà a tastare se dovessimo scendere. Il tempo è abbastanza tiranno, vi faccio solo vedere come le opzioni giornaliere siano molto, molto, molto importanti. Vedete sul B che è oggi martedì 100.000 pezzi, C è mercoledì 100.000 pezzi, sono tutte le giornaliere che comandano il mercato sul trimestre al momento. Nulla da dire. Direi che ho esaurito il tempo a mia disposizione. Io ti ringrazio Fabio per le indicazioni e per la panoramica, con te rimando l'appuntamento alla prossima volta. Grazie a te e grazie a tutti. Per oggi è tutto, da parte mia un saluto e un ringraziamento per la visione. Arrivederci.